il voto complessivo di questo articolo di travando e di 9 su 10 risulta essere il migliore di questa selezione le sue qualità sono leggero comodo per viaggi impermeabile se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video questo prodotto realizzato da travando ha conquistato una votazione di 8.8 su 10 punti totali è il più economico di questa selezione le sue peculiarità sono comodo impermeabile per viaggi se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo assegnato a questo articolo di your lion e di 8.2 su 10 lo valutiamo come la scelta migliore i punti di forza sono ottimo rapporto qualità prezzo comodo impermeabile per viaggi se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video questo articolo di you butler ha riscontrato una valutazione di 8.8 su 10 totali risulta essere il più esclusivo di questa selezione i suoi punti di forza sono per viaggi comodo robustezza impermeabile il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione di questo prodotto di s zone e di 8.6 voti su 10 risulta essere al momento il prodotto più regalato le caratteristiche principali sono impermeabile comodo per viaggi in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di zegur e di 9 su 10 risulta essere il più votato per questa categoria con 8.932 valutazioni ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono comodo leggero ottimo rapporto qualità prezzo robustezza impermeabile in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato